Giornata conclusiva del progetto Legalità, il castello dentice di Frasso degli studenti delle scuole medie di Carovigno alla presenza del procuratore capo della procura di Brindisi Antonio De Donno. La mafia non va intesa come un concetto astratto e la curiosità e la voglia di sapere dei ragazzi è stata soddisfatta dal dialogo di chi la mafia l'ha combattuta e vissuta anche per strada. Bisogna aiutare questi ragazzi a individuare i percorsi di legalità, a capire quali sono i meccanimi e quali sono i pericoli, metterli in guardia perché non è facile oggi scegliere, individuare il pericolo da dove viene. Allora è importante il colloquio e la testimonianza con chi invece questi percorsi li ha vissuti da protagonista sul campo. L'iniziativa rappresenta la giornata conclusiva della seconda edizione del progetto Legalità promosso dall'Associazione Le Colonne, ente gestore del castello e della biblioteca. L'obiettivo è quello che i luoghi di cultura siano delle aule decentrate, delle scuole, per riflettere su delle tematiche importanti partendo appunto dal rispetto delle regole, appunto un percorso di educazione alla legalità. Le regole da rispettare è la base della vita quotidiana per restare liberi e da qui che devono partire i ragazzi, ha sottolineato il preside Salvatore Madagliele. Il valore delle regole, noi dicevamo prima ai ragazzi, la regola vi dà la libertà. La regola non è un limite ma la regola è partecipazione, vi consente di partecipare nel modo giusto.